In Piemonte i saldi partiranno giovedì 6 luglio ed il Kodacon, in previsione degli acquisti che in molti faranno, ha diffuso un decalogo ai consumatori per evitare truffe online. Regola fondamentale, acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo ed evitare di acquistare da venditori sconosciuti. Attenzione alle offerte. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.